salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono Leon e io sono Vrex bene bene oggi siamo qua con la nostra rubrica la nostra solita rubrica bidone dell'umido solita e solida eh sì ormai l'abbiamo consolidata sì sì infatti solida però a volte anche liquida molto spesso è più liquida che solida sì sì infatti ah il gioco che andremo a provare oggi si chiama Lord of the Isles quindi già il titolo dice tutto ve lo spiego io io questo gioco mi ricordo dagli screenshot praticamente noi in questo gioco siamo un vecchietto con il deambulatore all'interno di un centro commerciale dobbiamo impedire alle persone di passare cioè è stupendo è stupendo veramente vuoi giocarlo te eh? sì dai va bene dobbiamo scambiarci di posto sì 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 giocanovi stavolta Lord of the Isles yes vediamo 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 oh ma strano bene stavolta ok ci siamo eccolo no non ci credo guarda i dettagli proprio la cura nei dettagli click furiously to start no non ci credo cioè guarda la cura nei dettagli con la camicia boscaiolo bretelle proprio si sembra fatto di legno eh? allora Lord of the Isles sono Lord bla 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 nessuno deve passare devo bloccare chi passa i passanti VSD VSD ehm all down il sinistro per ah ok per bloccarli si e praticamente penso che il mouse non serve no ma è bellissimo guarda il cazzato nero ha quella nuvoletta sopra la testa ma mi sa che lo devi spingere che c'è anche il punteggio in alto ah ok guarda fiero proprio te non puoi passare pezzo di me via guarda la testa poi sproporzionata no no non ci credo spingere ma ora 10.000 punti sto andando a riportarti cioè è bellissimo vada vada ma senti un po' la musica anche tanta tanta cattivissima proprio hai vinto ah chi sono questi fantasmi senza volto chi vuole passare vuole passare attraverso le mie terre ah oddio nooo un attacco speciale cos'era? si smite tipo oddio 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 il martello arrivano oh mio dio arrivano anche ma l'allumonetto sulla testa è bellissimo si si ma vai via pezzo di me prezzente non passi con quella permanente nostra guarda proprio ma ma no pensavo pezzi ecco vai via te vai via vai via tutti via stop bumping to me no 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 wrong eisle ma via no occhio che questo no no cos'è? ah preparare le difese no il mio castello le mie mule del castello per tenere tutti fuori ah forse devo sistemarle in maniera tale da bloccare tutti capito? eh vedi? spingilo 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 spazio 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 madonna guarda proprio no passa 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 ok sorry sorry mi scusi proprio ma sono senza volto eh sì infatti ok abbiamo vinto ok abbiamo vinto terza nottata eh questa che era la terza finito? no non ci credo ai barbari al cancello al tutte queste orde ok ma quindi questo vecchietto pensa davvero di essere tipo il re di un castello mi ricordo un po' da un kishot no che credeva di essere un cavaliere cioè ah però aspetta anche questi ah è un casino questo eh cavolo è passato quello questo no eh sì vabbè sono troppi no questa qua deve andare indietro non qua no 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 impossibile questo no eh infatti le hai lasciato passare uno no fallimento tutte le speranze e sogni e amici e metto il passo i giorni eh giovani alas ah lui si chiama alas ah lui si chiama alas per un pochietto non puoi fermare il il passaggio del tempo il passaggio del tempo mio vecchio amico non ci credo cioè ma è istruttivo questo gioco è bellissimo per tutte quelle persone che stanno quel passeggino in mezzo alle scatole no è capito è così che si fa è così che si bloccano i passaggi ragazzi eh perché se voi lasciate il carrello nel mezzo gli altri li spostano invece voi dovete essere lì e impedire il passaggio alle persone è istruttivissimo cioè fantastico dai riproviamo amici vuoi provarlo te? ma siamo a cambio così vediamo se superi il mio record della quarta ondata vai 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 si facciamo musica questa musica molto ok clicchiamo furiosamente start iniziare si dopo facciamo un salto sulla pagina a vedere chi l'ha creato sto gioco si si vai vedere quali brutti musi l'hanno pensato no però io sinceramente non me la sentirei di infilarlo nel bidone dell'ubito no fatti c'è un concept il concept è carino fatti ci sta come gioco capito? è malato però eh non malato nel senso cattivo come lo intendiamo noi però si si in senso buono diciamo ok vediamo se riesce a superare la quarta ondata la vedo dura ok vsd come ti dicevo e se tieni premuto il sinistro del mouse ti scansa i passanti no così va dall'indietro vedi ok però spazio non lo posso usare no per ora no ok vai lì no verso no si sono uniti no 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 vai è troppo affollato qui ma c'è una sola persona oddio ma è tornata da indietro ma che culo che culo che culo che c'è avuto si è buggata vai via si è buggata la tipa guardi punti esclamativi dietro la schiena si 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 no vabbè ok eh spacebar ora puoi fare la magia no ma che oddio non è così facile però eh vai la bestia vai via perchè se guarda indietro i comandi si invertono tra destra e sinistra si è vero si ecco poi devi usare la la tecnica l'isle devo usare you shall not pass l'hai visto si si c'ho la testa un po' ovo e poi fa anche le espressioni incazzate quando usi la tecnica capito no si è si è vabbè no no dai non puoi deludere ecco oddio e uo no preparare difese ti conviene mettere le di bor in riga si io poi mi ricordo quello extreme shopping oddio è vero un po' lo ricordo lo sistemate bene guarda che non è facile mettere in riga no si si è vero cioè è vero nel senso che è più facile è più facile non lo so spazzarle via piuttosto che sistemarle quella lì se ah no no dove fate vai via non ci devo andare troppo al bordo perché se mi supero non le ribecco più andate via ti infilo il brick con testa guarda ma che vuol dire eisle vrong eisle che vuol dire eisle non lo so sai non ne ho idea è la prima volta che lo leggo eisle allora io penso di essere arrivato alla quarta ondata si ora c'è la quarta e però non ho superato il tuo punteggio tu eri su oltre non lo so quanto però mi sa che io mi pare il 50.000 qualcosa mi pare che non ero molto lontano da quello che sei ora questo è difficile però occhio per te allora io eisle qua e poi boom eh ti conviene anche questi qua starci attento mai eisle si è no no è troppo andate via casalinghe quando si mescolano è un casino perché non riesci più a distinguere si è arreso quella la oddio che c***o che c***o che c***o che c***o ce la fai dai hai superato il punteggio andate via andate via final season nooo ma è bellissimo i più piccoli vanno più veloci non ci credo si ma è casino però eh come fai a guidarli scusate come fai a comandarli no 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 non li comandarli cioè è impossibile comandarli no 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 eh si mescolano è un casino veramente un casino pochi che si mescolano ah aiuto eh si sono mescolati no qui l'unica è aislare a manetta proprio spammare e fare in modo che si no 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 ecco ecco si stanno ritirando eh però questi due sono quasi passati nooo ragazzi è un casino sto gioco no ma poi anche quelli piccolini come fai a comandarli 99.000 punti eh sei arrivato quasi a 100.000 no praticamente seguono gli stessi movimenti di quello grande però li fanno più veloci come immaginavo allora si si pensavo che li comandarli proprio con dei tasti differenti capito comunque si ragazzi se volete sfidare i vostri amici vieni più qua che sei fuori dalla inquadratura si 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 ora ero un attimo puggiato se volete sfidare i vostri amici perchè ho superato guarda ho sperato il conteggio no di vero come mai oh ma io posso aspetta eh posso continuare a muovermi provo a usare la tecnica si ah te la fa a fare quindi puoi vagare adesso all'infinito nel supermercato voglio vedere se no eh c'è il muro si c'è il muro si c'è il muro troppo bello dicevo se vi interessa provare questo giochino e sfidare i vostri amici vi lascio il link in descrizione per poterlo scaricare esatto si è un gioco molto carino cioè alla fine è carino come gioco non mi è dispiaciuto vero? divertente dai mi dispiace che tu non hai potuto provare l'ultima ondata però era veramente inguidabile si si no ma immagino già a vedere te comunque mi sono fatto un'idea cioè praticamente lì io penso che l'unica sia spammare e l'attacco che l'ho lì e cercare di fare in modo che la gente si arrenda si 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 più che altro non devi fare in modo che si mescolino no ma anche se si mescolino ho notato che alcuni si erano mescolati no? sono stati colpiti dal raggio dell'esplosione si 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 e si sono arreso ugualmente eh si è vero allora Mari forse ci vuole ignoranza ci vuole ignoranza bene per oggi è tutto ragazzi diteci voi nei commenti che cosa ne pensate di questo giochino noi ci siamo divertiti si dai è stato divertente bene per oggi è tutto e noi ci becchiamo al prossimo video